Tornati alla serata ruspante, a questo punto vogliamo avanzare i cingoli. Chi si è proposto per scriverci una canzone? Sono arrivato per ultimo, non so se non conto niente o sono più importante. Tu sei arrivato per primo! Alla mia destra c'ho Fabrizio. Brizio? Alla finita sono fatti Ilarvi. Bella Fabrizio! Fabrizio Ilarvi è bello! E comincio a preoccuparmi. Comunque noi dicevamo, il motivo per cui sei qua. Premio Fidelità. Premio Fidelità. Il motivo è il premio Interazione sui social. Questa settimana ci ha dato delle soddisfazioni. Ma anche se il gruppo ha vinto il premio di quello che ha animato di più. I tre post di questa settimana, tipo quello sul Milan, dove hai messo San Siro in chiave il ristorante cinese. L'altro tu con la banda da sindaco però con la bandiera al contrario che ti abbiamo chiesto che bandiera fosse. Pensavo alla bandiera panamense. Leva la N e metti la D? Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Ma lui ha fatto la foto con il tricolore, la fascia tricolore come sindaco. Al contrario. Al contrario. Ma per questioni copyright, giusto? Comunque abbiamo l'onore, il piacere, finalmente, e questo spiega la libertà di questa radio, di sdoganare ai nostri microfoni Fabio Pellegatta. Buonasera. Detto per le miau. Copyright, Maxi Lardi. Cosa mi tocca fare per diventare sindaco? Ma bravo. Quindi diciamo che dopo la prima candidatura ufficiale sul territorio, la seconda abbiamo l'onore ai microfoni di Radio City Bud. Hai vinto questa ospitata. Però io e Lillo, considerate le tue provocazioni degli ultimi giorni, abbiamo deciso di farti delle domande. Lui sul fronte musicale ed io sul fronte politico. Comincerei con quelle musicali perché, come diceva giustamente Monica, l'arte deve riempire i vuoti lasciati dall'esistenza. Per questo ci rende immortali. Quindi con la cultura si mangia. Volendo sì, ma soprattutto si è felice. Vado in pace con l'universo. Stiamo mischiando. Chi mi fa le domande di politica? La politica te la faccio io, ma prima partiamo dalla cultura. Lillo. Noi ci siamo parlati, abbiamo detto più cose geniali sui social che dal vivo. Infatti tu hai detto stasera, che bello poter parlare. E l'ultima genialata che mi hai raccontato la settimana scorsa, e che ti volevi proporre per scrivere una canzone di cui sono molto affezionato, che è Emilia Paranoica di Giovanni Indufretti, CCP. E tu volevi scrivercela, hai accettato questa sfida di scrivercela in chiave abbiatense. Abbiate Grasso Paranoica. Fantastico. Allora, io gli ho promesso che il producer Gigi Bertelli ci metterà le mani dopo che abbiamo scritto il testo. Filmi, pelle mia o DJ. Questo è poco mai sicuro. Quindi i contenuti dell'argomento dove andranno a parare in questo caso. Non ho parlato nessuna, te conosci sicuramente la città meglio di me che... La conosco con me le mie tasche. Nel titolo della trasmissione che questa sera abbiamo un attimino messo da parte, che è cosa è successo in città sui giornali e nel web. Noi abbiamo estrapolato due o tre notizie dai giornali, perché commentarle tutte ci sembra veramente troppo. Quindi abbiamo preso, si chiama come l'hanno chiamato? Quello delle biciclette? Il ladro. No! In termini antichi. In termini seriali. No, no, no. Però c'ha un nome, è stato presentato l'altro giorno dalle forze di maggioranza e il parcheggio per le biciclette. Bici Park. Bici Park. Io pensavo che fosse un parco giochi dove tu andavi in bicicletta e facevi le impennate. Allora, l'obiettivo di questo incontro, noi ti ripeto, abbiamo premiato la tua fedeltà. La tua fedeltà. Venga, ma venga, stasera la vedo un pochino distaccato, si sta divertendo guardandola fuori. Si sta divertendo guardandola fuori. Abbiamo prodotto distrazione nello studio. Quindi a questo punto per noi, per noi, umili anarchici di questo territorio, come si dice, anarchico nel senso più nobile della parola. L'abito non fa il monaco. Questo l'abbiamo sempre sostenuto. I primi quattro versi della canzone, dai. Entro un mese c'è tutta la canzone. Mi metta una base, qualcosa di fiume, qualcosa di Ticino, qualcosa di... Abbiate grasso, paranoica, paranoica, paranoica. Abbiamo svelato l'inciso, abbiamo svelato l'inciso. Dall'inciso passo alla domanda dal punto di vista politico. Sappiamo che tu sei molto attento, molto capillare, in questo caso, nell'attenzione della notizia. la commenti sempre con questa forma ironica, che onestamente là fuori fa anche divertire. Chiedo un parere anche a Marzidardi, in merito. Su Pelle Miao? Mi dia un giudizio, mi dia un giudizio sullo humor del nostro Pelle Gata. Pelle Miao è unico. Mi spiego. Ho comprato ieri una casa da lui, è per quello che è così. Vista Castello. Vista Castello, Vista Castello. Entriamo un attimino nei meandri della politica, però dal punto di vista della comunicazione. Scusate, volevo richiamare all'ordine lo studio. Vabbè che siamo tra amici che l'atmosfera è così calda e tutto. Però magari... E ma se tu a Elena dai una Coca-Cola, lei non capisce più niente. Concedetemi la domanda, me l'ero preparata, è una settimana che l'aspetto. Nell'eventualità che andasse male la carriera artistica con la canzone, e quindi da qualche parte uno stipendio bisogna prenderlo. Nel caso in cui, se lei domani Pelle Gata dovesse candidarsi sindaco, mi dica il primo punto del suo programma, senza... Cingoli. Farò diventare Radio City Bar Radio International. Avanti donne, prego, avanti uomini, avanti tutti. Ma si può fare pubblicità? Si può fare tutto. Venga Marika, venga Marika. Marika Asa, solo sciabia l'italiana. Ma si può dire? Sei veramente anni 80. Noi adesso ascoltiamo una canzone, e tutti i presenti avranno il diritto, perché giustamente bisogna... Madonna che patos che mi stai creando. Stai calma, stai calma che il bello deve ancora venire. Fare una domanda alle tre quote rosa. Ma che... Abbiamo lo studio pieno di gente che ama la nostra radio. E questi senti i discorsi che fanno. Mettetevi le cuffie. Allacciate le cinture. Prego, donna. Allacciate le cinture. Letter ride. Mettiamolo in troppo, no? Ma questo è DJ Lillo. Parliamo di questa... Madonna DJ Lillo, che espressione... È un frigo speziale. Che bello. Ho già in mente un racconto, mi hai già ispirato. Madonna Lillo! Ma che questo non mi dorme tre giorni. No, no. Sa già dove abiti. No, vabbè... Questo è un attimo, è dal tuo indiritto... Un attimo arriva, eh. Dal tuo indiritto Facebook, il buon nerd. Arrivano, arrivano. Ti fa pure l'estratto conto, credimi. Quello non gli conviene perché è più rosso. Quindi diciamo, cominciamo con questo ventaglio di domande. Per buon costume cominciamo da sinistra. Salutiamo gli amici della buon costume. Sì, sì. Vi ricordate il termine buon costume? Sì, io non l'ho mai indossato. È un po' come... Eh, ragazzi... E loro erano quelle non preparate. Ci hanno dato botta, ci hanno distrutto. Stiamo parlando, un verbale della buon costume l'ho preso. Buon costume o la non aria, la non aria. Prima delle domande, io devo salutare un amico che mi sta messaggiando. È un amico del bar. Lo salutiamo anche noi. L'ho conosciuto qui, me l'ha presentato la mia amica Elena. Si chiama Enea, sì. Lo salutiamo... Ciao Enea! Con tutto l'affetto! Ciao Enea! Ciao Enea! Ciao Enea! Ciao Enea! Enea Rizzi? Enea Rizzi! È due settimane che deve venire per trovare. Viene lunedì prossimo. Ma non viene. Ma per me non lo fa nulla. Non mi gira in giro con la bicicletta là, ma che mecca... C'è il capo che non lo fa venire. No, viene lunedì prossimo. Dai, Enea, Enea vieni che ci siamo ancora tutti noi. Però non portarci i tuoi video perché ballano. È vero! Abbiamo un'esclusiva venerdì. Venerdì, tanto noi facciamo pubblicità gratuita, poi come si dice, fai del bene e prima o poi tornerà. E il karma. Praticamente, venga, venga, che è legata, venga, venga, ci dia questa esclusiva on air su Radio Sardegna. Mi sembra l'effetto mi agonio a questo punto. Non capivamo se fosse il cingolo della... Venga, venga, sia con me. Ma però non si dice. Ma stiamo passando da Monica Panigatti a Pelle Gatta. Brava! Però una di sola. Una di sola, una di sola. Il prossimo video di Abbiate Web sarà dedicato su di me. C'è l'Enea ha detto in diretta che viene. L'Enea ha detto in diretta che viene. Vi ha messaggiato in questo momento. Vi ha messaggiato in questo momento. Ma era bene, Enea. Era in bicicletta. Enea mi ha detto che non mi costa niente quella video intervista. Come giusto che sia abbiamo dato spazio agli ospiti perché siamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ondici, 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 ondici. Di qua? E a fare che cosa? Chiese poi con voce da educanda. Orlando si fermò alla terza della macchina del caffè. Ti bacio, no? E Orlando da buona abbiatese disse Già no! Mi spugniamo con una canzone scelta dal nostro ospite mentre voi continuate questo discorso. Gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago Cosa è successo? È sensibile. La forma più poetica per dichiarare un pentimento. No, litigano di brutto. Litigano si ammazzolto. Hai capito? Va bene, siamo arrivati alla fine. Radio Cittipo di T. Siamo a un'ora e quaranta di trasmissione. Va bene, va bene, va bene. Allora, velocissimo, velocissimo. DJ Lillo, una domanda per Elena. Veloce, domanda, botta e risposta. Ci siamo ancora il lunedì prossimo, qua? Esattamente. Benissimo. Raffaele Brizzi, una domanda velocissima per Monica. Vai. Botta e risposta. Sto a chiedere, la musica di sottofondo che c'era prima era una musica di sottofondo straordinaria perché è un ECCP, mi ami. Mezza domanda per uno. Max e Andrea. Andrea, venga, venga, venga. Ma lunedì torni ancora a trovarci Monica. Certamente, se mi invitate. E l'ultima domanda, mezza domanda Andrea. No, ma Monica, io invece fossi intelligere ancora il titolo del libro ricorderei appunto tutto quello che... Sì, il titolo è Sesso e altri ordigni, edizione del Gattaccio e vi ricordo che autrici varie e ricavato va in beneficenza alla casa di accoglienza delle donne maltrattie. E qui ci vuole un applauso. A proposito di Gà, una domanda all'unisono per Pelle Gata. Faccia le fusa al microfono. Dopo cinque anni da cani, diamo spazio ai gatti. Sottolineiamo che in tutto questo, la politica non c'è. Va bene, cosa facciamo? Cominciamo con i saluti o ricominciamo? Giro di saluti. DJ Nilo Luigi Bertelli Grazie a tutti Raffaele Brizio Maricata E la sua parrucchiera Chiara Elena piccolo, ma non più piccolo come ieri Oggi è più grande Riccardo Io rivolgo un pensiero al mio scaldabagno che non vuole accendersi, grazie Monica che si fa i fatti suoi sull'uomo Monica la gara per salutare Facciamo un bel miau tutti insieme, per favore Miau Faglio Bregata, grazie Andrea, vai E il grande Maxi Lardi Stefano Beccacece DJ Gemma ai denti e alla regia Corso Matteotti, i vicini, la strada, il vetro Buonanotte a tutti Radio City Bar A mano a mano Buonanotte 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 Buonanotte